In diretta da Activision, ecco a voi CTR-TV con i vostri beniamini Chicken Stew! Ehm... ragazzi? Ah, mi hanno appena riferito che i nostri amici pennuti preferiti sono troppo occupati a gareggiare, quindi toccherà a me fare gli onori di casa! Via il filmato! Questo nuovo Gran Premio avrà una svolta apocalittica! Perché si correrà addirittura sul letto di un fiume prosciugato da tempo immemorabile! Il futuro non si prospetta affatto roseo! E come se non bastasse, da un mostruoso cumulo di scorie nucleari emerge un nuovo sfidante! Megamix! Vi schiaccerò tutti come un insecto! Speriamo che queste nuove vetture portino i nostri piloti al traguardo sani e salvi! E per oggi è tutto amici! Date gas e non scordate le cinture!